Ciao, per il principio che io sto facendo i video perché devo fare quello che fanno i grandi guru anche se io questo video già l'ho fatto, oggi io sfido nuovamente, lancio un guanto di sfida nuovamente alle pixivu, quindi 10 minutes makeup, ora ci provo io nuovamente e seriamente ma io a differenza loro non faccio tagli e ho queste grandissime occhiaie, quindi pronti per tenza via comincio con l'indiamatissimo double wear, dalla voce un po' tirata, un filino nasale, ma anzi ora è paradiso capite che ho avuto un'influenza epocale, quindi comincio con il correttore vado un pochettino contro la mia natura di fare dei prolog di 20 minuti perché devo riuscire a fare tutto in 10 minuti poi con un pennello alla sfumatura, sfumo, ho come ho sentito l'altro giorno una bambina, sfumo è troppo carina, sfumo questo correttore notate che sono ancora in cannottierina perché sto morendogli caldo tutti questi cavolo di antinfluenziali che ho dovuto prendere contro voglia l'ho dovuto fare, sfumo il correttore da una parte e dall'altra ma nel frattempo io vi devo dire una cosa ho visto le parodie di twilight, mi senti fissata a un twilight, sì mi sono fissata a un twilight perché io veramente mi chiedo perché ha avuto tutto sto gran successo e comunque la parodia di twilight lo fanno capire pure loro che secondo loro bella un po' con zoccoletta e dai bella, prendi una decisione, porca miseria e anche loro dipingono... come si chiama il vampiro Edward? non mi ricordo comunque anche loro dipingono il vampiro come un po' sfigatello questo non è un po' sfigatello c'è ah è un'altra cosa che ho dimenticato a dire l'altra volta nel frattempo metto il fondotinta uso il rimasuglio, guardate vi faccio vedere i miei treppiedi qua c'è la costruzione degli occhiali e questo è il gel un barattone di gel, new model, new style, gel cappello di mio marito il rimasuglio veramente infatti ho i miei seri dubbi che io riesca a fare tutto il viso di questo fondotinta di orca mi è piaciuto un casino ma ha fatto questo tempo perlomeno l'ho finito niente, l'ho dimenticata di dire l'altra volta a me è una cosa che io ho notato che è questa qua ogni volta che era in compagnia del fidanzato o della famiglia del fidanzato dove c'era il biondone che era assetato di sangue e la si tagliava ma voi li siete tagliate? io non mi sono tagliata mai aprendo un regalino Mizza si tagliava Mizza è la versione e intanto mi scappolo è la versione non volgare della parolaccia con la M tipica siciliana anche quando gli dico per esempio miglia è caldo questa è la versione non volgare che tempo fa parlavo con una ragazza mi diceva ho incontrato io chiedo scusa non ricordo mai i nomi e questa cosa di non ricordare i nomi mi ha portato una grana questo fine settimana non ci bastava che io stavo male e dovevo battere pure questa gente comunque niente questa ma che stavo dicendo? non me la ricordo più va bene così sono proprio patetica altre volte me lo dico da sola no veramente non me la ricordo più che stavo dicendo che anzi comunque bella non è possibile che ogni cosa che tocca questa qua si ferisce a morte non è possibile cioè per aprire un pacchettino addirittura ricevere i punti i punti il tizio là le ha dato i punti per un pacchettino di niente ah no perché poi lui la spinge sul mobile comunque che è fine ma ragazzi ma perché ma perché fanno secondo me hanno successo vabbè comunque ma io ah amici devo dire cosa mi comunque ho appena finito questo ve lo ritroverete nei prodotti finiti allora io come sapete non sono cipria quindi pracello con gli occhi non la mangio pulita non la stanno dire e questa confezione super professional mi è caduto e si è rotto ahimè hai detto guarda perché ho messo una carta stagnola così non è una barbona perché si è rotto il tappetto non ho un altro barottolino in cui trasferirlo se non li vedo li compro ma per adesso va bene così che è questo ombrettio di lastra che mi ha regalato Ornella che l'altro giorno mi ha scritto ma perché non abita a Catania perché non abiti a Palermo tu c'è abitare a Palermo caro Ornella torna torna t'aspettiamo donna allora questo ombrettino io lo metto con questo pennello a lingua piatta in realtà questo è un pennello che ansia sto video che ansia sono abitata a fare cose con calma ma non è vero c'ho ansia lo faccio apposta così poi ci sono quelle che si che ansia sto video sto scherzando va bene questo ombretto mi piace mi piace veramente tanto perché come base vale come base vale tranquillamente cioè io vedo che il trucco rimane e lo sapete anche dove mi piace qua la rima inferiore si chiama qui non fa sbavare cioè io lo metto là sotto la uso come base là sotto non fa sbavare per niente l'ombretto dite voi perché ti tiri l'occhio sinistro perché a me l'occhio sinistro non so perché io ne mi viene sempre una cacatissima mi viene sempre malissimo poi l'irito al ragazzo no non puoi riscontrire questi 10 minutes make up servono uno perché devo fare la sfida alle pixie ma lo voglio dire molto sinceramente perché loro tagliano io no due per farvi vedere che uno con niente si trucca veramente con pochi in pochissimo tempo quindi questo poi magari lo metto no invece io devo rimettere la carta stagnola vedete si è rotto il tappetto e quindi per non fare perdere lo rimetto nella carta stagnola che cosa la pezzente e allora di nuovo la carta stagnola poi che cosa metto io metto questa matita qui della Kiko che mi piace veramente carina smogliare i pensili l'ho comprata prima di decidere di non comprare più niente e la metto all'attaccatura delle ciglia ecco sopra per fare l'ombra e su questa cosa per fare l'ombra poi però ci voglio fare un video perché ovviamente è ghost make up che per quanto mi riguarda è l'unico che fa cose innovative le altre si limitano a dire questo colore piuttosto che quest'altro colore me compresa l'unico che fa cose veramente innovative è lui quindi la metto così magari la metto pure qua sopra c'è questo elicottero che gira da stamattina mi metto un'ansia e poi sopra in questo modo ecco ogni suo pennellino sarebbe meglio con un altro pennellino sono troppo troppo sporchi lo sfumo ora devo lavare i pennelli è una di quelle cose che una persona dovrebbe fare frequentemente ma per mancanza di tempo e spesso volentieri ve lo dico sinceramente per mancanza di voglia io non lo faccio ma lui mi scoccia non lo so perché quanto è bello avere i pennelli puliti li lavo non è che non li lavo soprattutto se devo fare dei video per esempio l'altra volta quello del contouring di ghost make up artist erano puliti perché sapevo dovevo farlo vedete quelli disegni qua madonna 8 minuti non ce la farò mai non ce la farò mai no ma ce la posso fare ce la posso fare vai Annalisa vai Annalisa che stress vai Annalisa velocissima vai Annalisa velocissima 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 ce la posso fare ce la posso fare ma ne ho a minuti di scarto cioè nel senso posso sforare i 30 secondi questo video dove ho intitolare è Camo Millati Annalisa Camo Millati Camo Millati cioè allora ah viene da gridare ora ci si istrano è venuto un po' meglio sto facendo un uso improprio di una matita bellissima veramente ah mi sono arrivata adesso sto dicendo poco fa il mi quando certe volte mi esce tipo mi che caldo mi 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 questo mi per chi non è palermitana significa una paraccia con la M poi che ansia che ansia mascara ma che forse ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la devo fare ce la devo fare ce la devo fare mascara dai mettiti bene quindi il mi è una paraccia però è un modo di dire cioè non è non è volgare è proprio un modo di dire più siamo noi lo dicono pure i bambini non che i bambini siano volgari ma cioè mi sto scavando la fossa sola veramente il mascara l'ho messo il blush oh mio dio corallista cosa ho? un chicco bellissima come ho visto la faccia cosa ce la faccio il rossetto non ce l'ho porca miseria perché non l'ho preso sì ce l'ho ce l'ho ce l'ho questo chicco ce l'ho ahi cosa c'è un minuto sì vai 9.57 pixivu anche questa volta vi ho fregato sono troppo avanti ho sporcato le luci dell'ambra qua sopra che ansia ma anche io che ridosona va bene questo rossetto questo è ultralight matte di chicco dell'anno scorso chissà quale collezione dell'anno scorso ma ancora mi ricordo come mi chiamo figuriamoci le collezioni bene adesso non intendo stare con questi capelli in questo modo avrei dovuto lasciare un po' una miscoccia da morire ragazze non avete idee anche perché dovrei anche sbrigarmi sarebbe tardi e niente ora mi pettino ce l'ho fatta ora sistema il gran bordello che ho fatto qua sotto e mi vado a cambiare ciao e che le stelle siano con voi camomilla ti annalisa ciao non mi scrivete che ansia veramente dà che io sto scherzando ciao